Salve a tutti... Mi state rovinando l'introduzione come al solito, non è possibile! Salve a tutti ragazzoli cari, bentornati in un'altra fantastica puntata dei diari del Nabbo. Percepite l'atmosfera di amicizia. Iniziamo alla sinistra da Mr. Tia Timing. Molto bella lì. Con Two Flower. Ciao a tutti. The Duckman. Salve. E straordinariamente il piccolo e dolce Rinswind. Allora, fai un'introduzione su questa nuova patch, New Bloom. Ah, sì! Dicci di più. Allora, la mia waifu Crystal Maiden, che è una figa... È più bella di sempre. È più bella che mai. E pensate, con soli 28 euro portate a casa una bellezza... 23,99. 23,99 scontati. Quello per le prime mille chiamate. Per le prime mille chiamate. Una bellezza che... Ma perché dovete andare a lavorare e guadagnare dei soldi? Vi potete alimentare con le immagini di Crystal Maiden che fluttua con il suo bel cucciolo di lupo vicino. Si può anche attivare la funzione delle docce in webcam. Se volete fare la doccia insieme, che è una cosa che, ragazzi, uno può avere... Invalutabile... Sì, io personalmente indosso il costume da bagno come J.D. in Scabbs perché... Per chi non ha niente a nascondere, ma lo nasconde... Ma dai, voi siete vestiti al computer? Eh... No! Cioè, per chi mi hai preso... Tu sei vestito da papera, vero? Sì. La pantina alla Starbound. Cioè, è anche per quello che non accendo la webcam. A Dota si gioca nudi. Non so perché, ma mi immagino che il tuo cane sia uno degli esseri più aggressivi dell'universo. Il mio cane è uno degli esseri più sfigati dell'universo. C'ha avuto quattro zampe. Ha avuto qualcosa tipo... Quindici cisti. Sta diventando cieca. Ha avuto una gravidanza isterica. Cioè, ha tutti i sintomi della gravidanza, tranne il fatto che abbia dei cuccioletti nel suo grembo canino. Oh no! In pratica, c'è stato un periodo in cui pensava che il suo pazzino fosse suo figlio. Sto arrivando, ragazzi. Sto arrivando, ragazzi. Sto arrivando, ragazzi. Li vogliamo uccidere. Ok, omnisia. Li vogliamo uccidere. Congelato, strunato, tutto quello che potete. Adesso. No. No, cazzo. Eh, ho sbagliato. Non ho capito che... Dai, bene. Ragazzi, avete gli stun? Sì. Aspettate che avanzino ancora un po'. Prendiamo sempre omni? Li prendo da dietro. Non ho più mana. Va bene così è già morto e non lo sa. Vengo a aiutarvi, ragazzi. Ah, se ne sono andati. Ah, ecco con i knight. Lo prendiamo. Via. Attacco io. No, cazzo. Mi dispiace che hai messo la tomba per prima cosa e poi c'è l'esterno. Ero lontano. Ero lontano. Merda, 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 merda. Beh, ragazzi, tanto l'importante è che non si è morto nessuno di noi. Io ho un po'. No, no! Non ci posso credere un'opin mano, ragazzi. Beccasniper, beccasniper. F**k. Torna indietro. Torna indietro. No, no, no. Aiuto, aiuto, aiutatemi contro. Ma è un visita. Arrivo. Eh. Blocca la, blocca la. Oh, danno bonus. Che bello. Wow, wow, wow. Oh, my God. Sai che ci ha salvato il fatto che avessi la sentry qui, perché Legion aveva preso l'invisibility? Tannalo. Mi dispiace, ha fatto quel che potere. La vacca, no. Merda. No, maledetto. Maledetto. Non iniziamo a fare le controrisposte che ci ricade nel culo. È giusto per fare il figo. Per fare il guappitello di cartone, come si dice a Termoli. Perché parli sempre come se Termoli esistesse? Dai. Ti dico che esiste. Ci sono stato. Cappa. Cappa. No, aspetta, forse è ammazzato. Arnato aveva la plate main. Io non dico che se non mi ammazzo mai. Ma non ti ho aspettato, ragazzi. Ma se mi aiutate li ammazziamo. Eh, ma io sono morto. Ti fai male da solo? Anche quei danni magici. Quando fai da. Certo. Certo. Oh, deep shit. Sto gioiello. Oh, GG. Subito a puttana. Va bene. Ragazzi, ed è con questa nota amara che terminiamo anche questo episodio dei diari del Nabbo. Però l'abbiamo presa bene, giusto, ragazzi? Sì? Ma sì. Si vince. Si vince e si perde, no? Eh, giusto, giusto. Va bene. Ok, chiuso, eh. Ciao. 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 Io non ci voglio giocare più. Perché mi ci avete fatto giocare? Che palle. Orar, tu questa cosa la cancelli e le facciamo un'altra. E ci sta. Nope. Non ci voglio giocare più, non ci voglio giocare più, non ci voglio giocare più. Non ci voglio giocare più.